Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di FanoTV dalla redazione. Siamo all'interno del contenitore riservato ai giornali, alla lettura dei titoli, all'approfondimento, al commento delle pagine dei giornali che abbiamo come sempre nel nostro touchscreen, ovvero il resto del carino del Corriere Adriatico. Questa mattina come sempre sfoglieremo e daremo un'occhiata alle notizie che a nostro giudizio sono più importanti. Prima come sempre abbiamo tutto il nostro rituale che parte con l'almanacco del giorno e dunque uno sguardo al santo, a coloro che ci hanno preceduti e insomma hanno spesso pagato con il sangue il loro amore per Cristo. Santi Carlo Luang e 12 compagni, potete immaginare già dall'immagine, vedete il fuoco, tutti legati, insomma ecco questa è la sorte che è toccata a questi Santi. L'alba alle 5.26, tramonto alle 20.46 e di alba possiamo parlare anche se ormai il sole è già alto, ma se andiamo a vedere per esempio questa bella immagine di Civitanova Marche vedete che spettacolo di mare con la spiaggia in primo piano, chiaramente ancora è tutto come dire a riposo in attesa di iniziare questo nuovo giorno. Ieri è stata una giornata incredibile per quanto riguarda di fatto il debutto di quest'estate 2022, la prima giornata vera estiva, ieri c'è stato il mondo, si è riversato diciamo in spiaggia e oggi sarà un'altra giornata di quelle interessanti perché il tempo come vedremo tra un istante insomma promette bene, intanto c'è sempre come vedete dalle immagini qualche persona che sta camminando in spiaggia, ma soprattutto il bello è questo sole che riflette sul mare, che si rispecchia con questa luce intensa e le imbarcazioni, le piccole imbarcazioni da pesca sono vongolare per lo più che stanno pescando in questo momento. Allora adesso invece andiamo a vedere il tempo, il tempo che conferma l'immagine che abbiamo visto, siamo a Civitanova quindi nel sud, quasi sud delle Marche, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per tutta la giornata con temperature in aumento, domani ancora cielo sereno anche se un po' di velature con incremento della copertura nuvolosa in serata, ci sarà questo transito di nubi in superficie, le temperature senza variazione di rilievo, per il fine settimana, il sabato si preannuncia comunque con cielo poco nuvoloso per lievi velature, le temperature ancora in aumento. Allora andiamo a vederle, queste temperature, se ce la facciamo, non ce la facciamo, sì ce la facciamo, pensavo che si fosse bloccato, invece no. Ecco qua, allora per la giornata di oggi, quelle previste, vedete, alle ore 14, Ancona toccherà quasi 30 gradi, Ascoli Piceno 31, che credo sia la temperatura più alta, quindi siamo nell'entroterra, Pesero Fano 29 gradi, quindi una giornata piuttosto calda. Intanto, ieri hanno lavorato molto anche gli esercenti, coloro che sulla spiaggia insistono con i loro locali, ma anche, diciamo, nell'immediata vicinanza della spiaggia. Per esempio, Viale Trieste, nella zona mare di Pesero, solo pedonale, quest'anno non ci sono proteste, il viale servito, vedete, solo ed esclusivamente, addirittura l'assessore Frenquellucci faceva il giro per dire ai commercianti mettete i tavolini in strada, perché non li mettete, insomma, forse erano un po' impreparati, invece, ecco, poi all'improvviso hanno messo anche i tavolini e quindi è venuto fuori questo bel viale lungo e frequentato. Intanto l'apertura, invece, per la cronaca, furia umana, ferisce quattro agenti, un giovane ucraino ubriaco, prima si schianta con la macchina, poi aggredisce a calci e pugni i poliziotti che erano accorsi per bloccarlo. In pericolo, invece, un'area di altissimo pregio tra Monte Calvo e Urbino, no alla caccia in questo Eden, le doppiette vogliono entrare, l'oasi della Badia fa invece le barricate. Poi, le altre notizie in breve, ieri la festa della Repubblica Pesero, così risorge anche Piazza del Popolo. Poi la ritmica che parte oggi alla Vitri Frigo Arena, il campionato mondiale, la coach, cioè l'allenatrice della squadra ucraina, che è qui per la prima volta, come dura a allenarsi sotto i bombardamenti. E poi provoca un incidente, poi fugge, è stato rintracciato un uomo in via Cavallotti, sotto invece sulla questione dell'acqua e delle risorse idriche, decidere subito, non c'è più tempo, l'allarme del Presidente del Parco, Sasso, Simone e Simoncello. Siamo dalle parti di Carpegne. Poi lo sport con la VL, la squadra di basket pesarese, con un futuro ancora incerto, soprattutto per lo sponsor, Beretta, siamo ancora in alto mare. Sfogliamo adesso invece la prima pagina. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere Adriatico, che in apertura mette la questione dell'erba alta. Erba alta, tante sono le segnalazioni, non solo a Pesaro, un po' ovunque, perché chiaramente quando poi si alterna pioggia, tanta e sole, l'erba cresce in maniera vistosa. E dunque che cosa succede a Pesaro? Succede che l'Aspes ha messo in campo 100 uomini per intervenire dove viene segnalata appunto quest'erba incolta. Pieri, che è il Presidente di Aspes, si rivolge ai residenti e dice loro abbiate un po' di pazienza, assicuro che arriveremo dappertutto. Intanto il titolo, lo leggete, giungla in città, c'è la task force, c'è la task force di 100 uomini che faranno di tutto per fare barba e capelli alle strade, ai viali della città. Ora, l'altra buona notizia invece sul caro gasolio è lo stop di 48 ore allo sciopero dei pescatori. Dunque si torna in mare, c'è quindi un cambio di passo in questa protesta dei pescherecci. Lo sciopero che si preannunciava ad oltranza viene messo dunque in stand-by, in fermo. C'è stata questa videoconferenza con le maggiori marinerie dell'Adriatico ed è stato deciso di tornare in mare dopo 10 giorni di fermo. Le imbarcazioni della Grande Pesca saranno in mare da domenica notte fino alla giornata di martedì. Poi invece la fotonotizia, il Corriere Adriatico questa mattina la dedica alla piscina con l'acqua alla gola. Nel senso che c'è il rischio, lo vedremo tra poco nelle pagine interne, che possa chiudere perché anche qui i gestori di Pesore Fano parlano e sono alle prese con dei costi insostenibili. Intanto sempre a Fano si rivedono i tedeschi, la stagione turistica parte a vele spiegate, mentre sempre restando in spiaggia, ma la cronaca, le ragazze si divertono, lui soktrae che cosa? Gli zainetti, arrestato dalla polizia l'altra sera sul lungomare, refurtiva recuperata, nei guai anche un minore. Poi si parla di allagamenti, una riunione che c'è stata a Ponte Sasso, un quartiere di Fano dove si è parlato appunto dei danni e degli allagamenti e servono in sostanza 11 milioni. Torniamo a parlare di turismo, baciato dal sole, riecco il pienone, si rivedono i tedeschi e gli svizzeri, fioccano i last minute, quelli dell'ultimo minuto che decidono però di venire a Fano, anche le spiagge libere sono un formicaio, gli operatori parlano di un ponte che ci soddisfa. Ora l'altro giorno ero a pranzo in uno dei ristoranti, quando non ho tempo vado al ristorante anch'io mangio un piatto al volo ed è bello, soprattutto in quei ristoranti del lungomare frequentati appunto anche dai turisti, ed è bello ascoltare queste conversazioni al telefono di questi turisti che sono qua per la prima volta e che parlano bene della città di Fano. C'era questo signore, questo ragazzo con la sua compagna, che diceva sì sì Fano è molto carina, molto carina, eccetera. Ecco queste sono soddisfazioni. Noi fanesi che per esempio ci viviamo ormai da sempre, molte cose ci sfuggono, molte bellezze non le notiamo più, è un po' come con la moglie, col marito, però è così, chi arriva e per la prima volta vede la nostra città rimane incantato. In spiaggia, ora si rivedono i tedeschi, titola il Corriere Adriatico. A giugno il turismo vola con lo sport, albergatori soddisfatti per questo ponte di Pentecoste. Con tre colpi per lo sciopero della marineria, scrive Massimo Foghetti. Intanto le provenienze arrivano visitatori a Fano anche dall'Uganda. Pugno duro invece per le multe, quindi questo vale anche per i turisti che sono qua e che magari non conoscono, magari rimangono affascinati dalle bellezze, ma si accorgono meno delle telecamere. Allora attenzione perché anche ieri girando un po' per la città ne ho viste diverse di multe sul parabrezza. Ieri c'è stata un'altra giornata dove a Fano perlomeno, insomma ne sono state staccate molte. Pugno duro per le multe, attenti a soste velocità, giornata campale ieri per l'afflusso alle spiagge, si riscuotono intanto le sanzioni del 2017. Allora sempre Massimo Foghetti scrive, d'ora in avanti, non si scherza, in fatto di multe l'amministrazione comunale di Fano ha imposto un giro di vite. Allora intanto soprattutto il punto caldo è sempre più o meno lo stesso, Fosso Segliore tra Fano e Pesero, però in questi giorni, e io mi soffermerei su questo perché ci sono dei dati interessanti, li vediamo insieme, in questi giorni si sta procedendo anche alla riscossione coattiva delle multe non pagate elevate nel 2017. Il servizio è stato affidato alla dita Andreani, la concessionaria del Comune, cui è stato affidato il controllo sull'evasione e appunto l'incarico di riscuotere le somme non pagate. Si tratta di 396 verbali per complessivi 137 mila euro. Però questa è la suddivisione interessante, 76 mila euro l'importo della multa applicata secondo le norme del Codice della Strada, quindi la multa to court, 7234 euro invece sono le spese di notifica e pensate 53 mila euro gli interessi maturati dal 2017 fino ad oggi. Poi ci sono anche altri dati interessanti che vi invito a leggere ovviamente comprando il giornale. Intanto dicevamo in apertura di questo ubriaco ucraino che fa un incidente, provoca un incidente, poi aggredisce quattro agenti e li manda addirittura all'ospedale. L'uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, si è schiantato con l'auto in piena notte in via Tumiani, siamo nella zona di Muraglia, i poliziotti come dicevo sono finiti in ospedale, verrà processato questa mattina dopo la convalida del provvedimento. Intanto a Senigallia un indiano invece, un trentenne, fa un tuffo in acqua e a un certo punto dopo le prime bracciate comincia ad accusare un malore. È stata avvertita, chiamata subito l'eleambulanza che è atterrata, ha preso in carico il trentenne che adesso è intubato e purtroppo secondo quello che scrive il giornale è in condizioni piuttosto serie, gravissimo. Trascinato arriva dagli amici a Marzocca di Senigallia, ha avuto un malore dopo le prime bracciate, la sua identità è ancora sconosciuta. Poi gli rubano la bicicletta, la ritrova dopo 15 giorni, il padre di questo ragazzino aveva lanciato un appello su Facebook, un amico del figlio ha notato questa bicicletta parcheggiata sul lungomare, più o meno dove era l'altra volta, dove era stata lasciata la prima volta e poi insomma l'ha riconsegnata al giovane. Mentre il maggiore Claudio Fiori, dopo 39 anni di attività, conclude la sua carriera nell'arma dei carabinieri, dal 2017 ha comandato il nucleo operativo e radiomobile di Senigallia. Parliamo ancora di sanità, il Corriere Adriatico anche questa mattina cerca di capire un po' tra le righe o meglio in questo progetto come cambierà la sanità targata centrodestra e quindi Fratelli d'Italia e compagnia bella qui nelle Marche. Il titolo, vediamo se riusciamo già dal titolo a capirci qualcosa, ospedale a Monbaroccio, casa di comunità a Pesaro, Pesaro inteso come Galantara. Allora, qui in realtà il giornale ci informa che il Ministero della Salute ha chiesto alla Regione Marche di apportare alcune modifiche al PNRR declinato sul settore. Che cosa succede? Succede che praticamente si fa uno switch, cioè si cambia. Mentre l'ospedale prima doveva essere a Galantara, adesso si fa a Monbaroccio e viene giustificato in questo modo. A Galantara i posti letto ci sono già, mentre a Monbaroccio dovremmo aggiungerli. E quindi, per evitare di fare tutto questo cambio, hanno deciso di fare questo switch. Quindi Monbaroccio diventa ospedale di comunità, Galantara invece casa di comunità. Intanto Acquaroli, il Presidente della Regione, in autunno, annuncia che porterà a termine la riforma sanitaria, ma nel fare una panoramica, sempre Acquaroli, della difficoltà che il settore sanitario è costretto ad affrontare, il Presidente individua la carenza dei medici a tutti i livelli, ma soprattutto nei territori e nei pronto soccorso. Un problema che arriva un po' da lontano. Intanto il Governatore annuncia anche una serie di appuntamenti in tutto il territorio, quindi in tutta la Regione, per raccontare i dati che, dice lui, abbiamo fatto studiare e le proposte, i progetti che metteremo in campo. Vedremo se finalmente questa sanità marchigiana troverà pace, ma soprattutto avrà dei risultati migliori di quelli che sta ottenendo e che ha ottenuto fino ad oggi. Da Urbino, invece, tornano i resti di Federico, messa solenne nel Duomo, celebrazione dell'arcivescovo Giovanni Tani, una messa in onore del Duca Federico, alle ore 18, nella cattedrale di Urbino, alla presenza appunto dell'arcivescovo. Poi la Festa della Repubblica, il resto del carino propone alcuni scatti fotografici, la piazza risorge dopo due anni di pandemia, la cerimonia ricolora il cuore della città con una buona partecipazione di gente comune, ci sono stati tanti interventi, tutto è iniziato intorno alle 9.45, vi abbiamo fatto vedere anche noi un servizio all'interno del telegiornale. Intanto, Viale Trieste, Tavolini in strada all'improvviso, questo è il titolo, tutti contenti, commercianti e ristoratori, spiazzati però dalla mancata comunicazione, nessuno ci ha chiesto niente, né detto come fare. Quindi, che cosa è successo? Quando hanno visto che la strada era completamente deserta, senza tavolini, senza niente, l'assessore Frenquelluce è andata in avanscoperta e dice, uno dei gestori intervistati, è venuta qui la Frenquelluce, mi ha chiesto perché non mettevo fuori i tavolini e quindi così poi ho fatto. Andiamo sulla pagina della Val Cesano, da Pergola, si parla di tasse, la Tari in particolare, mazzata del 10%, quindi evidentemente 10% in più. L'opposizione lascia l'aula, Pergola nel cuore, ignorati dalla Giunta, gli esempi virtuosi di Senigallia e di Fano. Sotto invece si riapre il circuito espositivo di Mondolfo, Museo Civico, Bastione di Sant'Anna e Abbazia di San Gervasio. Il giornale pubblica anche tutti gli orari in cui è possibile visitarli. A Ponte Sasso invece, dicevamo di questa riunione tra il Sindaco, la Giunta e una cinquantina di residenti di questa frazione del Comune di Fano, che sta nella parte sud della città, contro gli allagamenti si devono trovare 11 milioni. Sono state illustrate due opere, un fosso di guardia e lo sdoppiamento delle fogne. I residenti chiedono misure subito perché sono stanchi e ogni volta che piove e che ci sono gli allagamenti di stare lì a pagarsi i danni. Rimosso invece, e siamo sempre a Fano, il dosso di rallentamento in Via Trave. Avevamo ragione noi, dice Giorgio Francolini, che indica il luogo del dosso rimosso. Qui però serve un autovelox. Il portavoce dei residenti rilancia la richiesta dei residenti della zona. Mentre, rimanendo sempre a Fano, ci sono due notizie. Andrea Maduzzi ci aggiorna su una rotatoria che si trova alla stazione delle ferrovie, dei treni, che è stata ridipinta, che è stata ricolorata e quindi fa la sua bella figura in questo momento nel centro della carreggiata. E poi del problema della pista ciclabile invece, qui vedete di fianco, dove ci sono gli stabilimenti balneari all'Arzilla e che purtroppo spesso queste piste e comunque questi luoghi di passaggio sono spesso ostruiti, sono occupati dal parcheggio selvaggio di moto e di biciclette. Sappiamo quanto sia importante invece lasciarli liberi soprattutto in caso di necessità, in caso di urgenze, soprattutto per l'ambulanza. A Urbino invece il problema, si discute sul problema dell'acqua, decidere subito oppure sarà troppo tardi. Il presidente del parco di Simone Simoncello lancia l'allarme, dice un secolo fa a Carpegna c'erano cento laghi, ora non ce n'è più praticamente uno. E racconta anche di come i vigili del fuoco per esempio con le autobotti sono dovuti intervenire per portare l'acqua alle mucche e questa difficoltà di approvvigionamento idrico anche nei pascoli più bassi del Monte Carpegna è una novità, è il cambiamento che si fa tangibile sul territorio. Urbania, Urbania onora i caduti e ritrova i suoi giardini dopo lunghi lavori di recupero torna fruibile una delle zone più belle del centro di Urbania, ha restaurato il monumento alle vittime della grande guerra. E poi si parla della piscina, dicevamo in apertura la piscina i costi sono troppo alti e dunque rischiano di chiudere e rischia di chiudere anche la vasca praticamente la vasca olimpica. Caro Bollette l'appello del gestore di Sport Village Sebastianelli al Comune di Pesero poco è cambiato dallo scorso inverno c'è una data spartiacque che è quella del 15 giugno. E se, ecco ci soffermiamo 30 secondi proprio su questo riquadro che pubblica il Corriere questa mattina sul costo idrico guardate qua del consumo di acqua per gli impianti natatori vedete come la piscina del Parco della Pace di Pesero spesa sostenuta compresa fra 1,50 euro e 2 euro al metro cubo guardate Fano piscina Dini Salvalai 3,20 euro 3,50 euro al metro cubo e poi c'è un altro impianto natatorio ad Urbania 0,80 centesimi di euro al metro cubo quindi come capite insomma la situazione non è per niente rosa intanto parlando di sport oggi Pesero inaugura la World Cup la Coppa del Mondo di ginnastica e Pesero applaude le farfalle azzurre da oggi le gare alla Vitri Frigo si apre oggi fino al 5 di giugno l'atto conclusivo di questo del circuito della World Cup 2022 non sono a me se lo ricordiamo anche se qui veramente ci sarebbe da discutere a lungo su queste scelte di penalizzare soprattutto gli sportivi che non c'entrano assolutamente niente poveretti cosa c'entrano questi qua che si allenano e fanno sacrifici in mani soprattutto poi parlando di ginnastica figuriamoci queste squadre di russi e bielorussi che non sono state ammesse sarà invece presente per la prima volta l'Ucraina sia con la squadra sia con le individualiste insomma c'è questa insomma questa cosa qua e quindi da oggi fino al 5 di giugno poi invece per quanto riguarda la pallavolo fanese il giornale oggi pubblica Andrea Maduzzi Vigilar tutta nuova stiamo parlando della squadra che milita in serie A3 Ferraro e Cesarini dicono basta fanno saluto anche Nasari e Stabrawa il polacco Bartolucci e Chiapello ma torna Stefano Ferri che nelle ultime due stagioni ha difeso i colori di Macerata intanto per quanto riguarda il capitolo opposto cioè Stabrawa lo vorrebbe fortemente la squadra di Palmi sempre in serie A3 e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa del mattino che naturalmente va in replica sino alle 13 e 30 ma potrete rivedere se vi è sfuggito qualche cosa anche durante tutto il giorno on demand sui nostri social per esempio la pagina di Occhio alla Notizia oppure potete seguirla sulla pagina di Youtube di Occhio alla Notizia per tutte le altre invece informazioni che raccoglieremo da questo momento fino all'ultimo istante prima di andare in onda l'appuntamento è alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a rivederci a rivederci di Occhio alla Notizia di Occhio alla Notizia di Occhio alla Notizia